Realizziamo insieme un DDE. Per prima cosa scegliamo il filo in oro 18 carati tra varie dimensioni e colori. Personalizziamolo con uno o più charms e pietre preziose. Mettiamo al polso del cliente un bracciale di protezione per effettuare la saldatura con il macchinario laser in pochi minuti direttamente in gioielleria e rilasciamo un attestato di saldatura nominativo e personalizzato. Il cliente che sceglierà di regalare un DDE troverà all'interno dell'attestato di saldatura uno speciale QR code con cui registrare una dedica vocale di un minuto che rimarrà attiva per sempre.